Giorgio Bongiovanni Cari amici, siamo di nuovo qui con Giorgio Bongiovanni, un'ennesima intervista importante in questi tempi di grandi eventi, di grandi cambiamenti che preludono, come tutti voi sapete, al grande cambiamento veramente stavolta radicale dell'umanità terrestre e anche del pianeta. Argomenti di cui parleremo con Giorgio, che come sapete è un contattato e anche uno stigmatizzato e quindi gode di una situazione direi particolare perché possiamo attingere attraverso di lui a informazioni dal mondo cosmico ma anche dal mondo divino. Quindi benvenuti a tutti, benvenuto Giorgio. Buonasera a te Pier e a tutti i radio, teleascoltatori e il pubblico in sala. Sì, abbiamo anche un pubblico abbastanza numeroso qui presente, che saluto, salve amici. Ecco, non li vedete ma li avete sentiti. Come sta Giorgio? È una domanda molto complessa. Sì, secondo quello che ti ispira lo spirito in questo momento. Io sto bene, ecco, credo la risposta è più giusta. Come sta il mio corpo? Bene, non sono ammalato. Cioè ho una malattia curabile, si chiama diabete. Non è semplice servire Dio, però ti dà belle soddisfazioni. Beh, servire Dio, Giorgio, è un concetto che nella comune teologia religiosa è come la creatura che si pone di fronte a un ente irraggiungibile, invisibile e chissà se ci ascolta. Invece non è così. Il Dio che conosco io cammina con noi. È un Dio presente, quindi? Sì, presente nella mia vita da quando sono nato, si chiama Cristo, Gesù, il Messia, suo figlio. Adesso anche il padre cammina insieme con noi, ma no, questo non vuol dire che io sono Dio o sono un privilegiato. Sono un privilegiato sul fatto che ricevo conoscenza, ma Dio non mi tratta meglio degli altri. Però apprezza che sono fedele a Lui. Non so quante persone fedele Lui ha. Non perché la gente non ci sono devoti di Dio, ci mancherebbe. Ci sono devoti di Dio meglio di me, milioni. Purtroppo, come sai, l'umanità si è dimenticata di Dio completamente, la maggior parte. Però quelli che lo servono ci sono. Lui, io sono secondo me tra quelli che Lui ha scelto, non perché sono migliore, più bello, più bravo, ma credo che mi riconosca o che ho una qualità, il coraggio di dire la verità. Non ce ne sono molti che hanno il coraggio di dire la verità. Perché quando tu dici la verità, rischi di perdere qualcosa che ti appartiene. La vita, la moglie, i figli, i soldi, il benessere se ce l'hai, soprattutto la libertà. In questo mondo, quando si dice la verità, il potere, il tiranno, la persona alla quale dai fastidio cerca di sopprimere la tua libertà, perché la verità fa male. Invece a me la verità mi libera, come diceva Gesù. Quindi, secondo me, il Signore mi ha scelto perché ho il coraggio di dire la verità che pochissimi vogliono dire. Moltissimi, secondo me, io sarò carente nell'amare, nell'essere, diciamo, esprimere amore, tolleranza. Forse sono un soggetto intollerante, probabilmente. Di amare Cristo, credo che l'ho dimostrato da 33 anni, da quando ho questi segni. Ma non dubito che c'è gente che supera nell'amore. Mi è sottoscritto, ci sono pochi, forse quasi nessuno, che hanno il coraggio di dire la verità, come la dico io. Quindi, Giorgio, tutta questa tua esperienza comunque porta un messaggio attraverso fatti reali, che in realtà Dio non è lontano dalle cose umane, ma è molto presente. Dio è presente per chi lo cerca, per chi durante il viaggio in autostrada lo guarda. Signore, sei qua, ti voglio bene, stami vicino. Per chi non sa dove si trova, qual è la sua dimora, che per noi è il sole, lo prega in una chiesa. Ci sono persone, pochissime, poche. Generalmente quelli che vanno in chiesa Dio si irrita, perché sono ipocriti, tranne alcuni che sono davvero dei missionari. Quando Dio lo vedi che lo cerchi nella natura, nel sole, nelle stelle, nella sua invisibilità, visibilissima, allora lui ti si avvicina, addirittura ti parla. È un Dio duro però, non è un Dio mollo. È severo. No. È esigente. È esigente, oltre che generosissimo. Però non ti chiede mai al di sopra delle tue possibilità. A me mi chiede soprattutto al di sopra delle mie possibilità. Però ti aiuta a superarle. Cioè, mi chiede delle cose che un uomo non può riuscire a fare. E lui mi dice, se non riesci, non hai fede e quindi non sei degno di me. Ma io come faccio a fare un salto dal quarto piano e atterrare a terra innocuo? Cioè, mi spacco la schiena, non hai fede. E allora io salto dal quarto piano, arrivo a terra e non mi succede niente. O mi faccio una semplice slogatura e lui mi dice, mettiti la fascia e vai a fare la conferenza. Sono esempi ovviamente metaforici, ma nella vita mi succede questo con Dio. Dio ama più le preghiere o le opere, Giorgio? Dio amerebbe più le preghiere se le opere fossero, se le opere tutti le ponessero in pratica. E allora amerebbe di più la preghiera, perché Dio lo trovi nella preghiera. E c'è sempre. Invece nelle opere trovi il messaggio cristico. Ovviamente Dio è dappertutto, ma lui ha il contatto con te nella preghiera. Siccome adesso Dio si sente preso per i fondelli, da tutti noi che preghiamo, allora continua a essere sempre più presente nella preghiera, però ci rimproverà che siamo vigliacchi perché lo buggeriamo, preghiamo e poi non facciamo niente. Quindi lui ci ascolta e ci dice andate a quel paese, non nemmeno vi rispondo se non fate le azioni a favore della vita. Quindi lui apprezza di più oggi le azioni e meno la preghiera. Lui vorrebbe che nessuno mai lo cerchi più, Padre nostro, ma preferirebbe le azioni 24 ore su 24. Sarebbe lui, si sposterebbe lui ad andare nell'azione. Infatti se uno aiuta i poveri, Dio si veste dal barbone, come succede a me spesso, che lo prego poco, però lo prego, e ti dice figliolo, grazie, Dio è con te. E quello è Dio che ti sta parlando. Il barbone in mezzo alla strada che stai aiutando. Nella chiesa Dio c'è, certo che c'è, però ti vede ipocrita. E nella sua mente spesso sento, quando andiamo in chiesa, razza di vipere. Non è bello. Infatti io faccio la preghiera, prendo la comunione e scappo subito a fare le azioni, perché ho paure che si manifesta a Dio e si incazza con tutti lì dentro. Giorgio, la giustizia, hai scritto, è la più alta manifestazione dell'amore di Dio. Questo è un concetto che genericamente alle persone, anche religiose, suona strano. Lo vuoi spiegare meglio? Perché è la giustizia di Dio? Ovviamente è la più alta manifestazione del suo amore. Perché per noi, soprattutto al sud, ma tutta l'Italia, diciamo in genere i paesi latini, in genere i paesi latini, non dico che gli anglosassoni sono bravi. Dico, parlo di storia, e poi ti dico spiritualmente perché. Per noi la giustizia è essere infami, sbirritudine, perché noi siamo nati con la genetica mafiosa, con l'omertà e con il delinquere che ce l'abbiamo nel sangue. Quindi chi fa giustizia è un cornuto, è un infame. Chi invece tollera, perdona tutto, ma vedi gli avvocati difensori. Gli avvocati difensori sono i migliori seguaci dei preti, perché loro vorrebbero lo sconto di pena, vorrebbero sempre, e il loro lavoro ci mancherebbe, vorrebbero addirittura l'assoluzione, perché quello ha fatto 30 omicidi. Chiedo l'assoluzione perché non si rendeva conto. Cioè, quindi, quello è bravo, quello segue Cristo. Ma se poi il giudice invece ti condanna all'ergastolo con tre anni di isolamento, quello è un cornuto. Ecco, noi lo facciamo tutti i giorni nella vita quotidiana e lo trasportiamo nella vita spirituale. Noi quando andiamo in chiesa non chiediamo mai giustizia, chiediamo sempre perdono. Perdono, signore, perdona, perdono. Sono la mamma di Matteo Messina Denaro, signore, perdonalo. Sono la mamma di Berlusconi, signore, mio figlio è stato bravo. Nessuna mamma, nessun papà, nessun fratello va in chiesa e chiede, signore, fai giustizia con quel potente disgraziato, anche se dal lavoro, però fai giustizia, perché tanta gente è morta per causa sua. Tu pensi, quante persone secondo te vanno in chiesa a chiedere questo? Sì, uno solo, Giorgio Bongiovanni, insieme ai suoi settari, seguaci di tutto il mondo e pochi altri. Quindi la giustizia in realtà è una forma d'amore, perché la giustizia nella vita spirituale è la correzione fraterna. Gesù la chiamava la correzione fraterna. Tu correggi a uno che sta sbagliando e se riesci lo puoi condurre dalla tua parte. Abbiamo prova che alcuni collaboratori di giustizia, assassini e ferati, sono diventati nostri fratelli, perché la giustizia a loro ha fatto cambiare la loro vita in positivo. Hanno capito e sono cambiati, quindi è un atto d'amore. E la prova è quella. Quindi noi dobbiamo chiedere giustizia. Noi dobbiamo chiedere giustizia e se dovessimo trovare in giro, nelle nostre città o nel mondo, dei giusti, appoggiarli. Quelli che fanno giustizia, la nostra comunità li deve appoggiare. Se non lo fa, siamo vigliacchi e ipocriti. Anche se portiamo una stella, se seguiamo Dio. Perché farci gli affari nostri e non appoggiare i giusti significa essere complici dei mafiosi e dei criminali. Vedi perché, adesso l'ultima frase che ti ho detto, lo capisci che dire la verità non conviene. Certo. Perché in questo momento che mi stanno ascoltando in quella telecamera, anche fratelli, mi stanno odiando. Perché io li sto giudicando, sto dicendo, se voi non appoggiate i giusti siete criminali, assassini e mafiosi. Adesso, dentro il cuore di molti telespettatori, c'è il veleno contro di me. Come si permette? Ma perché sta dicendo questo? Ma io sto dicendo la verità. La verità fa male, ma è la verità. Quindi tutti abbiamo il diritto, dovere, di appoggiare uomini giusti. Ovviamente, se ci sono. E voi sapete che ci sono. Io ve li ho indicati. Se non c'è giustizia, Giorgio, non ci può essere nemmeno pace sociale? No, non esiste nessun tipo di civiltà, chiamiamola democratica, evoluta. Esiste la barbarie, il caos, il fascismo o il comunismo, quello falso. C'è le dittature. Nemmeno la democrazia è sufficiente, perché la democrazia, se non ha una costituzione forte all'interno della quale la giustizia deve prevalere, la democrazia si corrompe. L'antica Grecia, che l'ha creata la democrazia, il sistema migliore per vivere in un mondo fallibile, ha dato anche prova che la democrazia è corruttibile, perché l'antica Grecia fallisce la propria esperienza utopistica di democrazia, sebbene l'ha creata con la corruzione. I corrotti sono quelli che impongono a Socrate di suicidarsi. La prova che la democrazia fallisce in Grecia, che è la madre di tutte le democrazie della storia dell'umanità, è il suicidio e omicidio di Socrate. Quello ci deve servire di insegnamento. La nostra democrazia continua a morire perché noi uccidiamo facendolo suicidare il Socrate di oggi, che è la verità. A nessuno piace la verità. Quindi Giorgio stiamo unendo dei concetti giustizia, verità, se non c'è giustizia non c'è verità. E libertà. Se non c'è verità non c'è democrazia, se non c'è democrazia non c'è libertà. E quindi non c'è amore, ovviamente, questo è scontato. E quindi noi italiani, europei, ci illudiamo di vivere in una democrazia, ma in realtà è un inganno, perché non si può dire la verità. Noi viviamo in una democrazia falsa. Detto questo, per onorare la morte di centinaia e di migliaia di partigiani che ci hanno liberato dal nazismo e che mi commuove sempre, quel poco di democrazia che noi abbiamo, e stasera ce lo dimostra che siamo qui, alle 22.30 di notte, in un hotel, liberi. Questo programma andrà in assoluta libertà, senza quasi nessuna censura, a meno che non ci mettiamo a insultare le persone. Certo. E quindi questa è una conquista che abbiamo grazie ai nostri partigiani che ce l'hanno data con il sacrificio della loro vita, dei padri della nostra Costituzione. Però è una democrazia nella sedia a rotelle, perché viene continuamente violentata, stuprata. Da chi? Dai cittadini. E vabbè, i cittadini sono cittadini e sbagliano e pagano con la galera, ma viene stuprata dai potenti, da chi siede negli scranni del potere, da chi dovrebbe amministrare con amore per il popolo la democrazia. Te ho detto, il nostro paese, ma non solo, credo adesso, anche gran parte del mondo, nasce con il gene della delinquenza nel sangue. i giusti che appaiono sono persone generalmente che vengono da famiglie per bene, oneste, che hanno sacrificato la loro vita per premiare il talento dei figli, o anche che nascono da persone qualsiasi, ma sono pochi. Nel sangue dei nostri cittadini c'è il gene, il germe della delinquenza che sfocia nella violenza fisica, omicidiaria, oppure nella corruzione. Cioè, io te frego, se te frego sono bravo e la gente vuole imitarmi. Ovviamente in tutto ci sono le eccezioni, c'è l'eccezione alla regola, ma la regola qua è così. Io sto dicendo una menzogna, se io dicessi una menzogna, perché allora nel mondo ci sono 50 guerre, una quasi mondiale, 40.000 bambini muoiono di fame, ingiustizie, violenza, se io avessi torto ci dovrebbe essere un'eccezione di qualche delinquente, non che il sistema dell'Occidente, soprattutto della democrazia, è pieno di falsità, omicidi, violenze, quindi dove sta sta democrazia? L'ultimo gesto a quel povero Janus Varoufakis, che era nostro amico in diretto perché lo conosceva Giulietto Chiesa, l'ex ministro dell'economia che voleva mettere a posto l'economia della Grecia, l'hanno pestata a sangue l'altro ieri in un ristorante, quindi altro che democrazia, qua sta ritornando il fascismo. Mi bevo un goccio di caffè. Prego. questo è quello che penso. Il popolo, Giorgio, a volte si lamenta perché si sente oppresso dai potenti, però abbiamo dei casi che meritano di essere meditati. Duemila anni fa un giusto accusava il potere, eppure è stato il popolo a gridare crocifiggi, quindi? Quindi quel popolo, in quel caso Israele, era un popolo corrotto, perché solo un popolo corrotto dopo che un personaggio ti guarisce di fronte a tutti delle persone praticamente morte, tu gli dici crocifiggi. Solo un popolo corrotto, cattivo, come lo era in quel momento Israele, spero che oggi sia cambiato un po', ma vedo che con i palestinesi fa quello che ha fatto Hitler con loro, immeritatamente, che sono stati perseguitati innocenti, sei milioni, però loro non hanno imparato dalla Shoah, perché loro stanno mettendo in atto un'altra Shoah, uccidono a sangue freddo innocenti, questo Dio gliela farà pagare, lo vedranno che gliela farà pagare, gliela ha fatta pagare tante volte con i filistei, gliela ha fatta pagare con gli egiziani, gliela ha fatta pagare tante volte nella Bibbia la disubbidienza del popolo di Israele, e lo dice uno che è ebreo, io sono un ebreo cristiano però, non sono un ebreo monoteista, detto questo ci sono straordinari fratelli ebrei eccezionali, intellettuali, adesso mi piace tanto la protesta che stanno facendo per incriminare a quel delinquente di Netanyahu i cittadini israeliani, ecco quello è il popolo ebreo che mi piace, quello che gridò crocifiggi era stato pagato, perché vedi gli ebrei, noi ebrei abbiamo una grande tentazione, ci piacciono molto i soldi, per questo io li disprezzo, perché mi piacciono, quindi li disprezzo, li tratto male e li spendo tutti, tutti per fare del bene, se io metto da parte dei soldi significa che mi piace, cioè ripeto la stessa tentazione che abbiamo noi ebrei da migliaia di anni, invece io devo trattare male i soldi, male nel senso non devo mettere da parte niente e spenderli tutti per fare del bene e chiedere, perché chiedere significa che non li hai almeno che non sei disonesto io tutto quello che ho lo spendo piano piano non lo spreco però devo spendere tutto per fare del bene quindi siccome allora tutti come oggi gli piaceva il soldo i farisei hanno organizzato una colletta generale perché i farisei erano gli Elon Musk i Rockefeller i Soros i Soros di oggi in Palestina erano miliardari quindi organizzano una colletta e siccome era come si chiama Pilato impose ha imposto che la condanna di questo bravo uomo il siniedrio stava commettendo un'ingiustizia vedi nella loro ferocia l'impero romano era democratico cioè metteva i voti vabbè lo volete condannare facciamo non lo condannate voi i farisei facciamo scegliere al popolo i voti decideranno quindi cosa fanno questi quello che si fa anche oggi nella politica mafiosa comprano i voti del popolo e distribuiscono delle prebende credo monete d'argento e d'oro a tutti tranne a quei 20-30 fuori di testa che seguivano Cristo cioè la famiglia di Cristo la Madonna Maria Maddalena gli apostoli i discepoli ma la gente comune se tu gli dai ti faccio un esempio ma se tu gli dai sono solo esempi 10.000 euro uno squattrinato che però si trova in piazza tu devi dire crocifiggi ti do 10.000 eh vol cioè non te li pigli uno invece onesto no quindi si prendono i soldi e aspettano che quindi la frase non vi siete mai chiesto perché uno del popolo una cricca dice il sangue di questo giusto ricada su di noi sui nostri figli la domanda a parte la profezia ma la domanda è legittima te lo sei mai chiesto perché è la prova che non era vera quella e non era Maria Maddalena che dice ovviamente o la Madonna lo dice il popolo lo dice il popolo perché si è corrotto e quindi grida abbiamo fatto questo è che il sangue di questo giusto perché ci siamo corrotti hanno preso i soldi e poi si sono sfogati dicendo addio puniscici ma i soldi sono troppo belli però puniscici e quindi Giorgio e quindi oggi stiamo pagando quindi c'è un messaggio sicuramente di giustizia rivolto ai potenti ma c'è anche un messaggio di giustizia rivolto al popolo non è che devono cambiare i potenti e il popolo innocente anche il popolo deve cambiare il popolo ha delle attenuanti ma sarà condannato invece i potenti saranno condannati senza attenuanti questa è la differenza il popolo sarà condannato perché non ha voluto essere libero si è corrotto con il Dio denaro che il potente offre loro il povero io sono stato nei paesi più poveri al mondo e ho aiutato e Dio solo lo sa i miei fratelli però io non aiutavo tutti perché dovevo scegliere chi aiutare perché c'erano poveri che appena tu aiutavi loro loro subito usavano investivano quel denaro o quegli aiuti alimentari li investivano per fare violenza uccidere e diventare più potenti quindi su dieci poveri in Africa a Kinshasa o nel Congo oppure a Yaoundé nel Camerun dove sono stato dieci poveri otto erano delinquenti criminali e volevano solo fregarti due erano brave persone e noi cercavamo quei due questa è la statistica statistica macabra se vuoi ma è così perché gli otto delinquenti poveri imitavano emulavano il loro dittatore cioè il Berlusconi dell'Africa era adorato dal popolo che faceva la fame e quindi cercava in tutti i modi con la delinquenza di raggiungere risultati di ricchezza aiutare loro e i ricomplice anche tu invece dovevi cercare le persone e quindi bisognava fare educazione spirituale avere un percorso spirituale e poi aiutarli è quello che facciamo noi con le nostre comunità nel terzo quarto mondo che cerchiamo di aiutare quindi il popolo sarà colpito dal castigo di Dio forte avrà delle attenuanti perché sai perché? perché non sa le cose il popolo viene mantenuto nell'ignoranza quindi ha delle attenuanti i ricchi e i potenti no spesso però attenzione ho detto i ricchi e i potenti ma l'ho detto a casa certo quindi Giorgio comunque in questo castigo o diciamo la profezia di questo castigo comunque invita anche al popolo è un invito al popolo al ravvedimento cioè anche il popolo deve cambiare qualcosa assolutamente quando il popolo mi vota ancora Silvio Berlusconi significa che merita due castighi di Dio anzi tre e lo dico anche se fosse mio fratello Filippo che oggi voglio ricordare che è scomparso l'11 di ottobre con un applauso mio fratello che ha testimoniato la verità di Eugenio fino alla morte e pensa nel suo sacrificio che ammiro non ha mai conosciuto fisicamente le due nipotine appunto perché preferiva diciamo usare quelle poche risorse che aveva per diffondere il messaggio che andare a trovare le sue nipotine questo nessuno riesce a farlo forse nemmeno io sì dicevo quando il popolo fa questi scherzi cosa merita niente non merita niente perché il popolo sa ho fatto un esempio povero Berlusconi non ce l'ho con lui il popolo sa che è il mofioso che è criminale quindi non ha attenuanti quando tu non lo sai perché? perché sai perché vota Berlusconi il popolo? perché pensa che i giudici sono corrotti capito? pensa che si sono venduti ci sono giudici corrotti e venduti ma ci sono quelli onesti e tu quelli devi seguire i giudici che hanno condannato Berlusconi sono quella casta di giudici onesta incorruttibile tutti i giudici che hanno assolto Berlusconi hanno qualcosa da vedere nei loro armati quindi il popolo merita una bella lezione è successo in Turchia adesso aspettatevelo in Italia molto forte quindi non cercate di stare vicini alla porta dell'uscio di casa vostra il sabato e la domenica così siete pronti ad uscire di casa perché accadrà di sabato o di domenica va bene fine settimana agita fuori porta sì ve lo consiglio perché so che saremo colpiti e non è che risparmia casa mia il Signore risparmia le nostre vite perché dobbiamo servirlo ma io sono pronto a perdere la casa a dormire in macchina io vi annuncio che lui colpirà in modo forte perché me lo ha detto ecco parlavamo prima chi è che ha il coraggio di dire figliolo devi dire a tutti i tuoi fratelli che io colpirò chi ce l'ha perché poi se non accade direte crocifiggi giusto perché può anche non accadere subito per il fatto che lui è generoso e aspetta ma accadrà io l'avevo addirittura nominata alla Turchia sì sì sei mesi fa adesso sto nominando l'Italia e quindi succederà Giorgio alcuni passi teologici possono risultare misteriosi oscuri ti leggo un passo della lettera di San Paolo ai Romani e vorrei che poi tu lo spiegassi al pubblico nella prima lettera ai Romani leggiamo e perché hanno disprezzato la conoscenza di Dio Dio li ha abbandonati in balia di una intelligenza depravata sicché commettono ciò che indegno colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia di malvagità di cupidigia di malizia e pur conoscendo il giudizio di Dio cioè che gli autori di tale cose meritano la morte non solo continuano a farle ma anche approvano chi le fa ecco questo passo riguarda più i potenti o riguarda più il popolo? Tutti e due tutte e due puoi spiegare in termini diciamo più intelligibili alle persone cosa intende dire in questo passo San Paolo che è questa intelligenza depravata a cui Dio abbandona coloro che fanno queste cose E' gente del popolo i mafiosi che uccidono sono figli figli di famiglia operai e sono imbianchini Gaspar Espatuzza era imbianchino lavorava e faceva il suo lavoro ha ucciso 80 persone da imbianchino il suo capo Giuseppe Graviano è un miliardario imprenditore ufficialmente che vende verdura e lui dice che siccome ha venduto tanta verdura il nonno aveva dato a Berlusconi 50 miliardi mazza quante verdure ha venduto questa costano le carote ultimamente allora abbiamo detto quando abbiamo ascoltato Giuseppe che diceva Graviano che aveva venduto tante verdure ho detto avrà venduto tutta tutta la 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 pianura padana tutta messa insieme le verdure della pianura padana sono di Giuseppe Graviano e quindi abbiamo riso ecco il popolo rappresentato da questi contadini imbianchini ma che sono assassini pongono in essere azioni perverse con i potenti perché i potenti chiedono a loro di compiere queste azioni in modo che hanno un do ut des il potente dà a loro e l'oro danno ai potenti questo è un esempio scusate se sono ossessionato dalla mafia ma è un esempio classico della lettera di San Paolo ai Romani il popolo fa delle azioni maldestre e perverse al servizio del potere e viceversa quindi la mente depravata è quella del potere la mente depravata è quella di entrambi e che viene si sposa come un incesto e partorisce e poi il reato partorisce il male il popolo quello che non fa parte di questa perversione è omertoso e quindi avrà un castigo uguale o peggiore degli attori che sono nella superficie del palcoscenico il popolo in sala che vede che si sta ponendo in essere un reato indiretta è come che il pubblico in sala vede che l'attore uccide davvero il proprio collega lo ammazza e sta lì bravo e poi vede che è morto e vabbè che ci possiamo fare era un film un film quello è morto davvero si alzano e se ne vanno quindi il giudice punirà l'assassino e punirà gravemente per complicità e concorso in omicidio il pubblico in sala quindi entrambi avranno l'ercastolo da parte di Dio perché il popolo ha il dovere secondo la costituzione di evitare l'omicidio cioè tu non puoi assistere passivamente devi fare qualcosa a meno che non hai una pistola puntata ma se tu in massa puoi fermare l'assassino che aveva solo un coltello nel palcoscenico e non l'hai fatto tu vieni processato è condannato l'ultima persona che sta seduta viene condannata per concorso in omicidio minimo favoreggiamento la stessa cosa succede nel cielo quindi in questo caso la legge umana e la legge divina sono sullo stesso piano in questo caso sono sullo stesso sempre meglio la legge divina perché sa perché la persona non è intervenuta la legge umana non può leggere il cuore la legge divina sì quindi la legge divina è più disponibile a concedere delle attenuanti la legge umana meno perché non legge nel cuore si basa solo sui fatti quindi la legge divina è più diciamo così personalizzata la legge divina è personalizzata come la legge umana i reati sono individuali non sono mai collettivi nessuno può essere giudicato perché 20 persone hanno fatto una cosa no l'ha fatta quella poi l'ha fatto anche quell'altro tutti i reati sono solo individuali e unici a parità di reato ci sono a parità di reato nella legge divina ci sono attenuanti diverse perché ti leggono nel cuore invece il giudice sulla terra devi solo attenerti alle carte ai documenti ai fatti ai fatti c'è un aspetto Giorgio che io valuto quasi un segno dei tempi o lo è c'è sempre una più grande esibizione pubblica anche nelle tv nazionali di aspetti simbolismi costumi proprio di stile satanista come perché sta accadendo questo secondo te cose che magari 10-20 anni fa non sarebbero state tollerate se mi fai un esempio io posso seguirti ma già in quella resegna canora annuale c'è ci sono stati c'è quel cantante che ha sfasciato tutti i fiori simbologie sataniche ho capito allora è un'arma a doppio taglio Pier perché vedi la gioventù di oggi esprime in modo erroneo o estremo questo modo di esibirsi perché il mondo che l'ha preceduto perbenista se ti riferisci a Sanremo è un esempio ottimo è stato un mondo che nascondeva violenza perversione falsità ipocrisia false verità razzismo fascismo quindi la proiezione del giovane che non è educato che non è iniziato ma solo utilizzato dalle grandi case editrice per fare soldi utilizza la ribellione del giovane che vuole il cambiamento in realtà il potere lo utilizza solo per far soldi per fare ridere quello che ha sfasciato i fiori la gente applaudire e avere sensazioni e quindi chi ci guadagna sono sempre chi vuole fare soldi il giovane si sente sono bravo io ho rotti i fiori a Sanremo quindi sono un rivoluzionario uno che ho fatto vedere magari i miei testicoli ho fatto il simbolo di Satana per senso di libertà così vedete le cose cambiano in realtà è stato solo preso in giro da scemo qual è il giovane e il pubblico si è divertito risultato finale il copione è andato bene in scena ora io non lo so qual era la situazione migliore dove c'era Sanremo con Gigliola Cinguetti che aveva la gonna sopra leggermente sopra i talloni e già era scandalo super sexy da censurare o se Adriano Celentano ballava e metteva le mani nei testicoli solo perché aveva cantato la canzone rock fecero sette giorni di polemica negli anni 50 se quella era la situazione migliore diciamo quei tabù quel perbenismo oggi non lo so davvero non lo so quello che ti posso dire che queste espressioni sataniche sono frutto meramente di mercato anche Satana gli irritano viene inneggiato Satana gli sta sulle scatole che lo inneggiano così perché non stanno inneggiando a lui vogliono solo fare soldi lo stanno prendendo per il culo e basta anche a lui quindi noi siamo più bravi di Satana quello che Satana in questo momento gode è che malgrado prendono in giro anche lui lui ottiene il risultato che non esiste niente perché l'atteggiamento di oggi Pier così forse vuoi questa risposta tu perché la meriti nel senso che non era completa oggi il problema grave è che l'uomo i giovani tranne i veri giovani nostri e altri camminano come zombie senza concepire la trascendenza della vita né bene né male cioè non esiste la vita spirituale nel male e nemmeno nel bene quindi Satana è un grande invenzione umana stupida e Dio peggia ancora e quindi il nulla l'annientamento godiamoci questi 20 30 40 anni che ci rimangono 50 anni un giovane di 20 anni non pensa nemmeno che vivrà 50 anni non ce l'ha nella mente per come frenetico vuole avere tutto subito corre come un pazzo per ottenere il massimo del godimento e viverselo poi non me ne frega niente non è colpa del giovane è colpa della grande società dei potenti che ha creato questo giovane quindi la vittoria di Satana se vuoi è quella che lui ha ottenuto che non esiste nulla nemmeno lui e lui va avanti sì assolutamente ecco perché le catastrofi sono necessarie perché comunque non contempli niente almeno capisci che vale la pena vivere e sei solidare con il prossimo e forse ti fai la domanda ma la terra soprattutto quando accadono tre terremoti uno a Sydney uno a Los Angeles e uno a Berlino e ti distruggono dici ma come ci dicono che sono casuali a 50.000 km di distanza ma allora forse la terra è un essere vivo capisci? ricordi Giorgio quando ci furono i terremoti ultimi violenti in Italia che un esperto disse ci sembra che i terremoti si parlino tra loro esatto e si parla perché la terra è un essere vivo che la terra ha il cervello e ordina il dito mignolo gli mette la pomata poi passa al gomito eppure sono distanze enormi tra il dito mignolo e il gomito certo per la cellula per la cellula è infinita distanza anni luce esatto comunque queste espressioni diciamo così esteriori sataniche che tu hai definito secondo me in un modo molto corretto cioè sono esteriori ma alla fine sotto sotto è un po' come certe espressioni religiose in realtà sono vuote valeva la pena combatterle se fossero state le iniziazioni di Hasley Crowley quello che inneggiava al 666 che faceva riti satanici e quindi io avrei combattuto ho fatto campagne giornalistiche oppure i riti massonici o i riti satanici delle sette che erano anche assassini quelli sì quella in provincia di Varese famosa purtroppo che è stata scoperta e hanno arrestato tutti poi è stato intervistato da un collega il leader della setta che ha ucciso e sacrificato quelle povere ragazze e lui si sentiva davvero indemoniato ecco quella è un'altra cosa ma non lo facevano per soldi anzi hanno perso tutto quindi quello sì è da combattere a livello spirituale ma per il resto certamente che c'è la mano del demonio dietro ma lui è così intelligente che non vuole che si sappia che sono vere sono tutte forme estetiche provocatorie nella società moderna per fare soldi Pier come lo devo dire la gente pensa solo ai soldi i miei figli ridono ogni volta perché quando mangiamo papà allora facciamo guardate è solo una questione di soldi e mi ridono in faccia sì perché alla fine tutti vogliono solo pensare al dio denaro perché questa società te lo impone non si può fare niente senza i soldi tra poco metteranno l'aria a pagamento è un'altra profezia che ti faccio probabile no no la metteranno ho visto in una visione delle cabine rimetteranno in circolazione le cabine telefoniche vecchie grandi dove possono come quelle che ci sono agli aeroporti per fumare dove tu hai una dose di ossigeno a 3 euro migliore dell'aria che stai circolando quindi solo i ricchi potranno respirare aria pulita come al solito già si vende l'acqua che sembrava quando ero ragazzo venderanno l'aria venderanno l'acqua l'aria e l'aria adesso già ci sono delle dei grandi imprenditori commercialisti avvocati finanzieri che sono a tavolino si stanno organizzando per investire nelle borse le dosi d'aria che toccheranno alle grandi famiglie miliardarie a te che sei cittadino modesto come me le bombole d'ossigeno quella di quarta categoria perché l'aria diventerà irrespirabile vabbè sarà il momento Giorgio che l'aria fritta varrà qualcosa e quindi ce la possiamo in Giappone già mi sembra che la vendono ho visto delle cabine che vanno respirano mettono il gettone comunque Giorgio tornando al discorso che facevamo è vero che la società all'epoca di Celentano Giliola Cinquetti era ipocrita e comunque il marciume c'era uguale però dobbiamo riconoscere che comunque oggi è andato tutto peggio sì certo quindi anche queste forme esteriori seppur vuote e non la musica è già io che sai sono un appassionato oltre che esperto di musica musica oggi è inascoltabile quella invece era la musica per ieri c'è la canzone che ha vinto il Sanremo di Giliola Cinquetti che fa ridere già il nome alle porte del cuore che io ogni tanto la ascolto molto bella perché è orecchiabile ha delle note armoniche straordinarie e invece le canzoni di oggi hanno io che sono anche come sai un po' musicista suono le tastiere oggi le canzoni hanno una nota forse due per non parlare dei testi i testi non li nomino per niente e pochissimi arrangiamenti quindi quando ascolto delle canzoni ancora oggi come del nostro Tiziano Ferro anche Vasco alcuni pezzi sono cioè io godo ma il resto è veramente da piangere da piangere lacrime e amare ieri rileggevo Giorgio che alcune cose le avevo ascoltate le traduzioni del disco The Wall dei Pink Floyd un album preistorico anni 80 1979 eppure sono attualissimi assolutamente concetti e la musica il sound dei Pink Floyd è immortale lo ascolteranno anche nella nuova era come ascolteranno Beethoven Bach ovviamente Mozart in un messaggio addirittura del 2009 Giorgio ha scritto che è uno di quei messaggi che fanno parte della serie sulla giustizia di Dio voi avete perso il diritto di possedere il libero arbitrio voi avete perso il diritto di esistere e manifestare le qualità tipiche dell'Homo sapiens ora la scienza pensa corretto corretto la scienza pensa che l'Homo sapiens è l'evoluzione di un primate più o meno scimmiesco e non è così come lo spieghi tu a uno scienziato cosa vuol dire questo scritto io lo scienziato dovrei spiegare che la sua scienza la prenda e la butta nel gabinetto se non apre la mente perché l'Homo sapiens non deriva dalla scimmia dalla scimmia deriva un altro uomo sempre terrestre ma non è quello sapiens l'uomo viene dal serpente piumato da un serpente marino da un dinosauro marino ma è troppo lunga la storia comunque invito a leggere il tuo sito dove ci sono i libri che ho scritto continuo per la lunga credo anche abbiamo fatto delle cose insieme io e te dei dossier e lì c'è tutto che l'uomo nasce cento milioni di anni fa dall'acqua quindi viene prelevato dagli extraterrestri da questi geni soldi più che dagli extraterrestri da questi esseri che dicono facciamo l'uomo per conto dello spirito santo il padre eterno è sempre uno e quindi diventa uomo con l'ego sum cioè lo spirito individuale quindi dobbiamo fare due distinzioni lo spirito che è il vero uomo lo spirito intelligenza e il veicolo fisico il veicolo fisico è quello che vediamo e che viene da un serpente marino l'altro la scimmia viene da un altro serpente quindi noi non dobbiamo guardare la scimmia noi dobbiamo andare indietro la scimmia certo che il serpente marino dorato con le piume dorate diventa una scimmia e noi proveniamo da quella categoria da quella sì l'altro invece prosegue una vita collettiva animale bellissima ma non gli viene installato inserito l'intelligenza cioè lo spirito lo spirito l'intelligenza non che non sono intelligenti gli animali o vivi a volte sono più intelligenti di noi e più vivi di noi nel senso dell'identità indipendente io sono il gorilla non dice io sono dice noi siamo il branco dei leoni dicono noi siamo infatti il leone quando sta in branco e viene un altro leone sì c'è il duello io l'ho visto è straordinario e non non deve necessariamente ucciderlo il leone maschio più forte quando quello si arrende lui si alza quello si alza e se ne va quei due sono spiriti individuali che devono dirigere la collettività branco le femmine sono mio beato lui ha otto dieci femmine e quell'altro se ne va noi invece siamo spiriti individuali non meritiamo oggi di avere l'intelligenza individuale dovremmo rientrare nello spirito collettivo dei leoni i leoni non hanno le bombe atomiche sono feroci perché devono mangiare carne come il come il vecchio dinosauro che il mio nipotino Bao ti chiama T-Rex T-Rex e quelli devono cibarsi ma non hanno le bombe atomiche i missili nucleari odiano la terra si ammazzano tra T-Rex no ci sono duelli ma sempre per istinto della natura quindi noi possiamo essere privati delle gozum e rientriamo nello spirito cioè noi rimestiamo uomini ma diventiamo come le scimmie cioè non abbiamo più la capacità di discernere non abbiamo più la capacità di creare perché non la meritiamo noi creiamo morte e questo l'intelligenza suprema lo può fare e lo farà quindi Giorgio se mi dicono di votare io direi fatela domani stasera quindi questo per dire agli scienziati che esiste un potere che prima decide di manifestare l'essere umano così com'è ma può anche recedere in questa decisione e togliere all'essere umano il dono che ha fatto scusa se Dio è Dio può dare e può anche togliere adesso l'uomo vedi il problema non è solo del pianeta Terra ci sono miliardi di pianeti nel nostro sistema solare ci sono altri 8-10 pianeti quindi noi stiamo mettendo a rischio l'economia in un certo senso di una parte del cosmo il sistema solare che loro chiamano Sonas ma è un modo di dire ecco se noi con un conflitto nucleare facciamo irradiare delle radiazioni nello spazio tra Marte e la Luna scusa tra la Terra e la Luna Marte e Saturno queste radiazioni mortali non sono lì che vagano diventano nocive anche per altri pianeti perché se mettiamo noi dovessimo fare deflagrare la Terra o comunque partono milioni 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 di gradi di radiazioni nello spazio noi mettiamo a rischio lo spazio quindi non è più un problema solo nostro ecco che c'è una vigilanza se vuoi extraterrestre che deve intervenire per conto di quel Dio di cui tu parlavi per fermare questa follia a meno cioè io non desidererei mai che quello che vado divulgando da da quasi 40 anni e prima di me Eugenio da 70 anni si compisse si la prova definitiva che ci sono questi esseri la soddisfazione che proverò deve essere quando loro si manifesteranno per intervenire su un conflitto nucleare io piangerei amaramente perché sarebbe la fine dell'umanità si prendono solo 4 gatti Pier cioè non pensate che loro intervengono siamo tutti lì felici adesso saliamo nell'astronave si prendono molta gente e anche noi che ci crediamo se non diventiamo come loro vogliono non ci prendono ci lasceranno morire noi e i nostri figli per questo io riuscirò da voi a farmi odiare pur di ottenere la vostra salvezza che è quella di diventare nudi come mamma vi ha fatto di non possedere nemmeno gli occhiali che avete addosso e allora gli extraterrestri vi prenderanno a me mi odierete per sempre ma non ci fa niente in Europa Giorgio è scoppiata di nuovo una guerra e l'Italia sta fornendo armi di fatto questo significa che il nostro governo viola la Costituzione perché l'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli anche di risoluzione dei contenziosi internazionali oltre a ciò vendendo queste armi diventiamo complici di omicidio perché con queste armi vengono uccise delle persone quindi cosa rappresenta cosa significa che ritorno ne ha l'Italia da queste azioni perché il cittadino medio pensa ma io che centro e il politico pensa che sta solo facendo scelte politiche nessuno si rende conto che le violazioni di queste leggi comportano invece delle conseguenze gravi ti ho detto prima Pier che è una questione di soldi un giorno andiamo insieme e ti rispondo così andiamo insieme nella fabbrica della Beretta ci sono centinaia di operai tutti onesti padri di famiglia che crescono i figli vanno in chiesa oppure sono atei ma rispettano la vita sono ambientalisti magari vegani anche vegani cioè sono bravissime persone non credo che un solo operaio della Beretta sia disonesto tutti esemplari cittadini che pagano le tasse rispetto ad altri che magari sono ambientalisti e sono ladri però fabbricano pallottole pistole cannoni e se tu gli dici lo inviti al capo del personale della Beretta lo inviti a cena gli dici lei lei è complice di un assassino di assassini lei è un complice criminale vende la morte lui sai cosa ti risponde sì Pier ma che devo fare a una famiglia poi se non lo faccio io lo farà un altro quindi pensi che se io se tu cambi me e io stasera vengo all'arca e do le dimissioni e cerco un lavoro più umile invece di prendere i miei dieci venti trentamila euro al mese alla Beretta come capo dell'ufficio vado a fare il barista tu pensi che ottieni che la Beretta non fa più pallottole questo ti risponde ecco ingrandisci questa risposta alla domanda che mi hai fatto e gli italiani ti diranno io ho famiglia io e ai ho famiglia ecco perché ai ho famiglia perché sono i soldi che reggono la struttura mentale sentimentale etica filosofica spirituale delle famiglie italiane come quelle del mondo e allora la domanda deve essere posta in un altro modo se vuoi una risposta più concreta sono i soldi Giorgio a creare tutti i sistemi perversi sulla terra compreso le guerre questa è la domanda la risposta è certamente sì abbiamo prove certe ormai definitive l'ha detto persino il presidente Putin che non è l'ultimo arrivato ma nessuno gli ha replicato in Inghilterra che la guerra Hitler l'ha finanziata gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra la seconda guerra mondiale nessuno ha replicato Putin cioè Hitler è stato armato dalle fabbriche inglesi americane ebrei quindi gli ebrei devono andare a rivedere che la storia dell'olocausto dietro le quinte c'erano i loro imprenditori miliardari ricchi perché sapevano che Hitler era fascista era xenofobo e razzista ma l'hanno finanziato lo stesso perché era una questione i soldi certo lo sapevate questo voi no adesso vabbè sono contento per voi addirittura il Henry Ford che creò la fabbrica delle macchine delle macchine ricevette la massima onoreficenza da Hitler che poteva essere data a una persona non di origini tedesche e tutte le fabbriche di Ford che erano in Germania che costruivano anche per Hitler gli alleati non le bombardarono mai quindi c'era una collusione e questa è la logica lettura che fai tu ma sul piano della legge divina questo comporta delle conseguenze perché dopo che l'imprenditorio comporta quello che è successo con noi Pier ecco questo non è tanto semplice perché poi rimangono perplessi anche non solo tutta la comunità nostra ma anche amici esterni persone con le quali mi confronto nella lotta alla mafia per queste mie dichiarazioni ma io le faccio lo stesso siccome sono credente e credo che nella Bibbia Dio è intervenuto a noi succederà come è peggio peggio perché nella Bibbia con Noè Dio l'ha risolta la cosa distruggendo il mondo con l'acqua qui pioverà fuoco vedi col fuoco non c'è scampo con l'acqua in qualche modo cerchi una via d'uscita anche se non la trovi ma col fuoco non c'è scampo quindi Dio distruggerà con un diluvio di fuoco la terra gran parte della terra gli uomini questo succederà a parte i terremoti che sono delle caramelle e succederà con l'arrivo di un asteroide che infuocherà l'atmosfera quindi questo merita in questo momento il mondo tranne la salvezza di alcuni giusti persone per bene ci mancherebbe tutte le persone io mi fido di Dio Dio salva le persone vere oneste e gli altri perversi no quindi non è che ho dubbi che se Dio manda un castigo fa gli arriva la bustarella da Berlusconi che a lui lo risparmia se Dio risparmia dei delinquenti è solo per farci castigare quindi non prendetevela con Dio se qualche celeberrimo criminale assassino feroce rimane in piedi voi dovete pensare che Dio lo lascia per castigarci di più quindi Gesù quando dice che sarà peggio dei giorni del diluvio di Sodoma e Gomorra intendeva questo perché intendeva il fuoco Gesù l'ha detto attenzione telespettatori Gesù dice e verranno giorni peggiori di Sodoma e Gomorra e del diluvio quindi se lo dice Gesù Cristo che è buono pensate Dio che è cattivo che cosa farà e Dio sempre cattivo è stato per noi cattolici perché è giusto ci sono dei passi della Bibbia Giorgio molto particolari te ne leggo uno posso è un profeta non molto conosciuto si chiama Nahum nel capitolo uno dice l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore è pieno di furore l'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva l'ira per i suoi nemici non sono parole leggere no però bisogna interpretarle ecco perché noi alla vendetta lo facciamo per scopi egoistici io mi vendico di uno che ha ucciso mio figlio è una reazione umana ma non è una azione giusta perché c'è una legge io vado dal giudice il giudice darà la punizione giusta che ha ucciso mio figlio e fa giustizia nel caso di Dio che non ha bisogno di un giudice e né del legislatore e né di una corte perché è tutto lui lui è il pubblico ministero lui è l'avvocato difensore lui è la corte e lui è la giuria popolare tutto in una persona quindi che fa dà la risposta giusta e quindi siccome è tutto su di lui non è una coalizione di funzionari di stato e di avvocati che devono difendere giustamente il reo che succede? succede che compie un'azione unilaterale questa noi lo consideriamo con il nome di vendetta perché non abbiamo altri termini quindi quella vendetta io la chiamerei giustizia quella gelosia io la chiamerei voglio che tu sei per me io sono il tuo Dio perché scegli un altro Dio ma non che Dio non vuole che tu ami la tua donna tuo figlio tua moglie non lo devi amare più di lui quindi in quel senso è geloso perché non ci possono essere ragazzi se noi accettiamo la presenza di Dio e ci mettiamo al suo servizio e non ci possono essere due D ce n'è uno solo quindi se Dio ti dice fai questo no c'ho a mio figlio allora tuo figlio è un altro Dio c'ho a mia moglie allora tua moglie è un'altra Dea quindi ecco che scatta la gelosia che non è gelosia è richiesta di compiere il proprio dovere come stabilito dai patti se tu hai scelto me come Dio cioè nel senso che mi riconosci io mi rivelo tu mi riconosci ti do le prove che sono Dio e tu poi mi replichi perché devi andare con la tua fidanzata allora la tua fidanzata è un altro Dio no non lo posso accettare quindi il profeta dice quella è gelosia ma è una gelosia divina perché ti sta rimproverando e richiedendo di fare il tuo dovere secondo il contratto chiaro noi a volte scegliamo non critichiamo la gelosia Piero ascolta che ti dico guarda che ti dico ti metterai a piangere quando vai stasera in stanza noi accettiamo la gelosia del datore di lavoro che ci impedisce che ci dà quella giornata libera perché è geloso che noi ce l'andiamo perché poi lui resta solo e magari fa meno soldi e noi gli diciamo di sì ma non gli diciamo ma che minchia sei sei geloso e a Dio sì capito che siamo messi proprio male sì condivido no no io non ci puoi andare stasera in permesso buongiovanni resti in ufficio ah va bene signore poi se Dio dice buongiovanni vai alla conferenza signora ma io ho mia figlia mia moglie siamo messi male quindi è sempre una questione di soldi perché il datore di lavoro ti dà la busta paga Dio no secondo noi no e invece 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 avete capito ecco applausi 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 no perché non sentivo nessun riscontro ho detto questi dice questo che vuole da noi c'è un aspetto Giorgio della violenza di questa società che è terribile sono i crimini sui bambini il signore stesso ha delle parole di fuoco per chi violenta i bambini infatti in Matteo 18 leggiamo guai guai a chi provoca scandalo ai bambini o chi li uccide è meglio per lui che si metta una macina al collo e si getti in mare perché nella società anche quella antica c'è questa violenza sugli indifesi perché accade questo accade perché l'uomo c'è una violenza sugli indifesi perché l'uomo si sente un Dio vuole imitare Dio che dà e toglie la vita e poi l'uomo è geloso in modo perverso in modo infame diabolico e schifoso della purezza dei bambini viene attratto interiormente e sessualmente da quella purezza quindi li vuole stuprare violentare e anche uccidere perché è geloso nel senso diabolico della loro purezza della loro bellezza e del loro amore in sostanza l'uomo con questo gesto quando quando violenta o uccide i bambini è un gesto nascosto ipocrita violento assassino e vigliacco di il desiderio perverso di uccidere Dio l'uomo ha i coglioni pieni di Dio e lo vuole uccidere toccando i suoi bambini perché toccando i suoi bambini fa del male a Dio lo fa soffrire e allora io dico agli uomini voi sarete decimati della vostra razza non rimarrà nemmeno memoria la storia di chi ha fatto violenza sui bambini quindi di questa umanità non sarà studiata nelle università cioè sarà cancellata la memoria dell'esistenza di questa umanità solo di alcuni eroi e giusti ma talmente Dio non vorrà più nemmeno ricordare gli uomini questi perversi che li farà scomparire dalla memoria di tutte le razze extraterrestri dell'universo quindi quella morte seconda che faranno questi assassini è una morte seconda la più terribile perché loro non si rendono conto che sono vivi vegetano la vita sarà eterna ma molto molto vegetale per millenni millenni finché non inizieranno a percepire il senso della vita dell'amore della purezza e della devozione al creatore scusatemi se sono così severo però chi mi conosce io non ho ho detto che io sono a favore della pena di morte per chi tocca e conviene e sono cattolico cristiano credente stigmatizzato non però tranne se non è malato attenzione uno può anche avere una malattia lo curiamo lo gli diamo la castrazione insomma quello che si può fare o delle terapie ma la maggior parte non è malato è consapevole di farlo e comunque lo fa poi ci sono i riti satanici che lo fanno per chiedere riscatti potere sì allora torniamo al concetto beh comunque il tema dell'ira santa di Dio è il tema di questa intervista che è già iniziato quindi e mi pare che lui stasera ecco perché mi ha detto facci parlare di lui dalla sua e quindi così da ricercatore da studioso presumo che il tema dell'ira di Dio sia molto importante in questo tema perché l'ira intesa come giustizia che sai l'ira diciamo l'ira dobbiamo spiegare a un pubblico moderno razionale che conosce la scienza antichi concetti espressi in un certo modo in una forma più comprensibile a questo tipo di società e quindi aggiungo un altro concetto ancora sull'ira di Dio che è vero che significa violenza distruzione eccetera eccetera ma in realtà quest'ira porta a due aspetti che dobbiamo considerare uno è quello della punizione degli assassini della vita e dei loro complici ma l'altro anche il significato della misericordia di Dio che libera gli oppressi che salva il pianeta della generosità e quindi nell'ira di Dio in questo concetto c'è un atto di misericordia per chi ha subito che poi è di giustizia quindi è anche un atto di liberazione l'ira di Dio assolutamente no è anche è solo è il libertador che viene per toglierti dall'oppressore dal tiranno il faraone in Egitto con Israele i filistei con Israele lo stesso impero romano che poi schiacciava viene schiacciato dal cristianesimo vince il cristianesimo l'impero romano anche se poi si corrompe però intanto lo vince quindi Dio libera il popolo sempre attraverso i suoi interventi di forte giustizia o anche di grande liberazione filosofica molto rara però accade che qualsiasi intervento di Dio compreso il diluvio universale era per liberare Noè e tutte quelle famiglie nel mondo perché non c'era solo Noè anche in Oriente che erano tutte amavano la terra a Dio invece quelli erano assassini cannibali stupratori quindi li ha liberati E questo è un concetto importante a parer mio perché dà conforto e speranza che in realtà una giustizia vera esiste una giustizia non corruttibile che interviene nella storia del mondo a porre fine alla tirannia io credo assolutamente che la giustizia vera esiste nel nostro Signore Gesù Cristo e nel Padre Eterno io credo anche che la giustizia laicamente esiste perché nell'istinto umano io spesso mi sono chiesto perché sono un po' filosofo come sai ma se Dio non fosse esistito la giustizia ma l'avrei fatta da solo non c'è bisogno di farlo perché ci sono c'è Dio e quindi c'è Gesù Cristo e quindi ci sono i suoi giusti sulla terra c'è la Costituzione italiana che io adoro e quella per me è la rivoluzione però paradossalmente se non ci fosse stato niente di tutto questo non mi restava altro che combattere con le armi persino Gandhi che era l'incarnazione della non violenza per eccellenza rispose una volta lasciando sbigottiti tutti che a volte se io devo scegliere nel difendere a uno con un'arma lo faccio cioè è necessario farlo quindi persino il grande Mahatma che si è fatto prendere a legnate senza muovere un dito molto astuto li ha toccati nei soldi Gandhi certo che facendo filare alle famiglie ha tolto all'impero inglese i soldi della vendita dei tessuti assolutamente è stato grande stratega Giorgio dalla fine del 2017 tu hai scritto vari messaggi su su questa profezia mariana e c'è un messaggio che dice che a partire dalla fine del 2017 il potere dell'anticristo si sarebbe andato via via sempre più indebolendo ora dal 2017 già si è chiuso un primo ciclo di tre anni e mezzo ne è incominciato un altro da quello che vedo io anche dal panorama internazionale comunque il suo potere si sta indebolendo assolutamente intanto la prova di quello che ha detto la madonna che dal 2017 il tavolo del demonio chiamiamolo l'anticristo la seconda o la prima potenza nucleare ha fatto saltare il tavolo da gioco con tutte le fiche ha rotto gli equilibri ha rotto gli equilibri quindi quello è un atto di indebolimento perché il presidente Putin non è più lui non è San Giovanni Battista ma non accetta più il sistema di potere dell'Occidente e vuole imporre se vuoi ma ne possiamo parlare imporre un altro tipo di sistema di potere quello dell'Oriente certamente quello suo e quello della Cina o ed è quello che io credo noi ci teniamo il nostro potere orientale semi-occidentale e orientale con i nostri costumi le nostre difese voi tenetevi il vostro perché non ne vogliamo sapere prima c'era invece fino al 2017 dagli anni 90 pieno potere anticristico fino al 2000 all'entrata del terzo millennio c'era un unico potere mondiale capitanato dagli Stati Uniti d'America i russi leccavano i piedi agli Stati Uniti la Cina costretta a fare affari dipendeva dagli Stati Uniti e l'Unione Europea era la banca e anche la meretrice la escort preferita degli Stati Uniti d'America e noi che ci sollazzavamo nel nostro benessere assurdo e il terzo mondo e il quarto mondo a continuare a soffrire come cani la Russia ha fatto saltare il tavolo le ragioni teologiche le sappiamo questo che la Madonna di Fatima aveva detto inizierà a perdere il potere satana e come lo inizia a perdere il potere satana all'interno del suo stesso impero perché non è che lo inizia a perdere perché noi quattro francescani con i piedi scalzi possiamo scalfire la sua potenza dall'interno dell'impero satanico esce fuori quello che potrebbe addirittura distruggerlo con le armi atomiche perché se si distrugge il mondo va bene che si distrugge l'umanità ma pure satana muore perché non ha più dove governare e quindi inizia quel processo dal punto di vista spirituale abbiamo un risveglio giovanile che prima era tutto morto tutto sevolto quindi grandi comunità di giovani una delle delle nostre si chiama War Voice capitanata come sai da Sonietta ma è una delle tante con le loro congregazioni di collegamenti con altre associazioni altri giovani musicisti artisti che si riuniscono questo è un altro indebolimento dell'anticristo perché il vivaio dell'anticristo di satana sono stati giovani invece c'è questo vivaio che sta prendendo altre pieghe questo è un altro indebolimento e poi gli eventi sono eventi anche spirituali che decisamente risvegliano molte persone noi nel nostro piccolo piccola comunità del mondo occidentale abbiamo quadruplicato se non quintuplicato le persone che fanno parte della nostra comunità spirituali anche quello è un segno contro l'anticristo che si indebolisce i tuoi ascoltatori vedo che sono centinaia di migliaia nelle tue conferenze se non milioni quello è un atto contro l'anticristo perché prima ti seguivano quattro gatti dieci persone cinquanta persone adesso che ogni tua presentazione ci sono duecento centomila ottantamila da lì devi essere onesto e lo sei che c'è un cambiamento positivo lo dobbiamo essere ma anche alcune molto ma molto poco forze nuove politiche leggere c'è un cambiamento positivo quindi leggiamola a 360 gradi piano piano il potere dell'anticristo però reagirà e siccome reagirà male ecco l'intervento di Dio catastrofico infatti c'è un aumento cioè lui si indebolisce ma la violenza aumenta eh certo reagirà è come la tigre ferita che fa se sta ferma ecco infatti in questo indebolimento Giorgio a un certo punto è stato profetizzato che lui getterà la maschera sì addirittura tentando l'ultimo inganno facendosi passare come un grande benefattore sì sì secondo te quale sarà o quali saranno gli eventi che lo porteranno a questa scelta guarda Pier non ti posso rispondere io lo so di che cosa si tratta che pensa se è vero se è vero che veda questo signore Doniesis ma non te lo posso dire perché altrimenti scopro le carte e lui potrebbe prendere difese diciamo che è una bella metafora ma ancora è presto purtroppo non è come Pier pensa essendo un puro in buona fede così in grande difficoltà ancora regna sovrano lui pensa addirittura che farà gli farà la festa alla Russia cioè quindi secondo me non è più una questione di malattia è un programma del padre dell'anticristo lo vuole portare alla morte lui è convinto come gli Stati Uniti d'America sono convinti e alcuni pazzi guerrafondai che noi possiamo vincere la guerra con la Russia ma anche il mio nipotino Bauti a 4 anni direbbe che non ha letto nemmeno un rigo di storie della Russia ce l'ha nel sangue che la Russia è imbattibile direbbe siete folli capisci se tu mi dici faccio la guerra alla Cina sì ci sono possibilità ma la Russia non la puoi battere ma questi pensano ecco perché secondo me l'anticristo sta andando in corso all'autodistruzione pensano di battere la Russia perché sta facendo la guerra all'Ucraina per scherzo è solo che si è impuntato Putin ma non vuole esagerare che se dovesse esagerare la nienta in meno di 24 ore certo addirittura che io pensavo che con la situazione e non lo dico con orgoglio cioè attenzione che dice ah quello questo si gasa no sto dicendo i fatti e anche e anche nella storia Napoleone Hitler io pensavo che vista la situazione belligerante come adesso che forse l'Occidente cercava un attimo di placare invece questa rivoluzione colorata che è scoppiata in Georgia in Bielorussia stanno cominciando a richiamare i riservisti allora mi sa che gli Stati Uniti vogliono allargare il fronte invece di indietro vogliono allargare il fronte sempre fuori dal suo giardino dal loro giardino però significa che pensano di poter vincere vogliono battere la Russia non hanno scelta economica perché la Russia e la Cina già sono alleate economicamente l'America sta sopravvivendo grazie alla vendita delle armi ma fra 3-4 anni cadono le borse beh c'è stato un crollo questi ultimi due giorni forte cadono le borse e noi tutti siamo fregati cioè noi tutti io noi che conviviamo con il denaro solo per fare l'opera non ce ne può fregare di meno ma chi ha tanti soldi si deve cominciare a sparare è bene che se li metta in luoghi sicuri perché gli spariranno in meno di 24 ore facciamo un remind Giorgio una notte d'inverno del lontanissimo 1988 40 anni tu hai avuto un'esperienza particolare con il signore che si manifestò in casa tua e ti disse dobbiamo mangiare il pane della vita in quel momento in quel momento avevo le stimmate avevi le stimmate non è nell'88 no avevo appena ho ricevuto quindi 89 89 sì ecco in quel momento tu hai capito hai detto il significato ma a distanza di tutti questi anni ti era sfuggito qualcosa come rivedi quel momento oggi io credo di aver capito che cosa voleva dire Gesù di Nazareth e Cristo mangiare il pane della vita significa dobbiamo essere personificati da Cristo perché il pane della vita è Cristo mangiare il pane della vita significa che Cristo entra dentro di te e agisce e ti utilizza quindi mi chiedeva la disponibilità totale io l'ho capita nel tempo e spero di essere come vuole la disponibilità totale significa lasciarti andare lasciarti andare significa avere la capacità nel tempo che ogni ogni cosa che senti deve essere per suo volere quando ti è caduto questo fatto questo incontro con Gesù presumo Giorgio che all'epoca tu lo avrai detto ad Eugenio che ti ha risposto una curiosità certo figliolo dobbiamo mangiare il pane della vita fine della risposta ti ha chiarito tutto mi ha chiarito tutto bellissimo bello sono felice certo figliolo dobbiamo mangiare il pane della vita fine della risposta cioè arrangiati e trovatela da solo a me interessava solo che lui credesse la risposta saggia che mi ha dato era giusta così lo dovevo scoprire nel tempo quello che a me premeva che lui mi credesse e mi ha creduto istantaneamente quello che mi ha creduto più di tutti nella mia storia si chiama Eugenio Siracusa più di te forse anzi sicuro il suo la provocazione del dolore nei miei riguardi era una volontà di Dio alla quale non poteva rinunciare nemmeno lui ma lui che ha creduto più di tutti a tutto quello che mi è accaduto questo per la risposta a chi pensa che io possa parlare male del mio maestro beh non l'hai mai fatto e non lo farò mai perché lo sento un tempo Giorgio tu hai avuto una vistosa un vistoso segno sulla fronte certo ce l'ho ancora ma non si vede per anni tra l'altro ho avuto segni di presenza anche di segni che mi hanno mandato che questa croce c'è a Meggiugori la Madonna accolse la tua richiesta però ti disse indeterminati apparirà apparirà come è apparso l'ultima volta è accaduto nel 2014 ero con te a Fatima nove anni fa no? si mazza nove anni e il 2014 Giorgio è un anno nodale rispetto ai fatti che stanno accadendo perché è l'anno di piazza Maidan per la strage di Odessa dell'eccidio della casa dei sindacati quindi quella croce in quel momento segni grossi anticipava quello che sta accadendo oggi in Europa assolutamente all'epoca io perlomeno adesso ti dico questo messaggio che mi ha dato il padre se la fa apparire di nuovo è finita arriva il diluvio di fuoco quindi preghiamo che non appaia in queste settimane in questi mesi in questi anni appena apparirà è finito dopo giorni ce ne dobbiamo scappare fare quello non lo so il cielo ci dirà ma questo per me è il segno per quanto riguarda me e la nostra comunità che se dovesse apparire dobbiamo aspettare qualche giorno ore o minuti che si scatena la sua il molti invece rideranno ecco il buffone che si è messo la plastilina sulla testa beh comunque considerando tutto quello che hai detto prima di fatto nel 2014 la Madonna con questo segno annuncia l'inizio dell'ultima fase dell'Apocalisse sì sì certo quindi come dici tu se riapparisse dici ormai è fatta ormai è fatta sì veniamo ad altri eccellenti voglio dire una cosa che sento forse il padre vuole che la dico prego tutto quello che Eugenio ha detto e che ho detto io fino adesso è vero se poi Giorgio un giorno dovesse cadere non dovete cercare la scusa per tradire Dio dovete dire stronzo Giorgio che è caduto ha sbagliato Signore perdonalo aiutalo dagli il castigo che merita ma tutto quello che ho detto è vero e quindi non fatevi mettere la prova da Dio se siete stolti facendomi cadere perché vedi se Dio mi fa cadere è perché vuole provare voi la vostra fede la vostra fedeltà la vostra sincera devozione al messaggio quindi quando Eugenio mi ha mi ha lasciato Dio voleva vedere se io sono veramente fedele agli insegnamenti al di là dell'uomo che può fare anche una scelta tra virgolette sbagliata per me non era sbagliata ti ho detto che era una ma fosse stata anche sbagliata e lì la prova se io credo o meno quindi se un giorno Giorgio dice basta e si leva le stimmate se le fa levare commettendo magari un peccato era tutto falso è lì che cadete nelle mani del maligno dovete andare avanti senza di me che io divento un povero barbone dicevo Giorgio ci sono altri eccellenti protagonisti di questa grande tragedia terribile anche meravigliosa dell'umanità di questo tempo che sono i nostri fratelli celesti gli esseri che vengono senza di loro non c'era nemmeno Dio come senza Cristo non c'è Dio ecco ultimamente c'è stato c'è stata una grande attività in un paese che tu ami molto e anch'io in Messico Uruguay e Messico perché l'Uruguay e il Messico sono le terre dove atterreranno nel grande contatto massivo manca una terza all'Italia se la stanno riservando per l'ultimo perché ci siamo noi e perché faranno un grande spettacolo qua dove tu devi nasconderti perché sarai cercato da tutte le televisioni del mondo io già mi sono nascosto però ci metteremo a disposizione quindi noi siamo pronti ma il segno ce lo devono dare loro con avvistamenti massivi in Italia 10, 20, 30 filmano cioè si fermano le macchine in strada e che li filma la RAI quindi dovranno pur chiamare a chi ne parla da tanti anni certo quindi a tuo parere Giorgio il grande contatto comunque si avvicina sì ma poi sono gli extraterrestri che ho ragione di credere se sono ancora in vita c'è un tale che ha dei segni di un tale Cristo che voi adorate se volete sapere di noi parlate con lui tu Giorgio perché a noi a voi non vi parliamo siete violenti e noi siamo troppo sensibili parlate con Bon Giovanni che è uno che sopporta da millenni la violenza per conto nostro recentemente Giorgio poi su questo sei stato anche attaccato tu hai rivelato che ci sono stati degli incontri particolari tra questi esseri e ambienti del potere assolutamente loro hanno evitato la guerra nucleare tante volte compresa quella che doveva succedere l'anno scorso 2022 2 4 6 l'anno dell'anticristo sì e l'hanno evitato con interventi seri quindi confermo c'è qualche altra anticipazione che ti hanno fatto che puoi dire su quell'incontro in generale in generale anche su prossimi eventi loro su loro attività su qualcosa che sono presenti fisicamente in mezzo a noi e vi daranno dei segni nel bar nei teatri nei cinema cioè si faranno riconoscere sì ti fanno vedere questo perché perché vogliono farci sentire la presenza fisica in quanto c'è un allarme rosso nella confederazione che loro ti devono prendere e per prenderti con la teleportazione devono essere presenti fisicamente parlo dei fratelli della terza dimensione gli alieni classici gli alieni solari si proiettano però c'è tutto una prassi anche in questo quindi ti dicono siamo qua e il fatto che te lo fanno già fratelli mi hanno scritto che hanno incontrato e mi chiedevano e io gli ho detto questo era un extraterrestre mi mandano nella chat esperienza arca di Milano arca non mi ricordo a Catania cioè le arche hanno da quando l'ho detto io ovviamente poi si può creare un fanatismo non tutto è alieno però ci sono esperienze che proprio sono loro oltre che avvistamenti questa è la novità è che poi sono infiltrati anche nei massimi vertici dei servizi segreti americani e russi sono infiltrati lì cioè lavorano come militari come esperti si danno suggerimenti apparentemente a favore ma in realtà sono contro la propria sicurezza nazionale per la pace sia da un lato che dall'altro quindi sono in incognito no si personificano che ne so se se il il vice capo della sicurezza del FSB russo si chiama reshettnikov non è che ci va un altro ma lo personifica lo prende lo incorpora e quello non è più reshettnikov sta facendo il lavoro dell'alieno quindi per evitare la guerra ti faccio un esempio questo è proprio fisico il pentagono alcuni generali hanno detto cedere cioè che la Crimea ritorna all'Ucraina non ha senso la Russia ha diritto cioè è meglio che negoziamo ma come? cioè voi siete i primi che volete premere il bottone quindi questo signore generale a quattro stelle non era lui era un extraterrestre è stato preso da un extraterrestre ovviamente dall'interno non si rendono conto no non si rendono conto ma i servizi segreti quello dell'MJ12 sì ah sì certo che loro sanno bene come lo fanno loro hanno studiato come farlo ma non ci riesce se fanno questo è finito se lo ha capisci sanno che ci sono gli alieni quello dell'MJ12 si sanno benissimo che stanno intervenendo gli alieni ma è solo 20 persone nel mondo tra Russia America sanno di questa realtà gli altri compreso Biden che è uno scemo intuiscono sanno però le verità come sai sono super nascoste ecco come interpreti anche alla luce di questa cosa che stai dicendo perché stanno accadendo dei fatti che sono un po' anomali quindi o sono un inganno oppure c'è qualcosa di fatto la guerra nucleare ancora non è accaduta quindi non è un inganno però ad esempio nell'ambito meramente ufologico all'interno del potere c'è stata la legge firmata da Biden nel 2021 2022 addirittura si sono tenute le prime audizioni pubbliche dove Pentagono esercito quindi come vedi tu questa rivelazione è un fatto che viene spinto occultamente o è un... cioè ci sono tutte e due le cose c'è una forte presenza extraterrestre una forte resistenza ad ammettere la verità che sono cattivi c'è una battaglia sempre tra loro ideale ideologica ma che non ci venga nella testa di attaccarli perché ci fanno fuori sarebbe una reazione militare perché il padre ordinerebbe loro di annientarci e loro lo farebbero eh se glielo ordine certo il comandante si ordina certo una tua risposta a chi a tutt'oggi fa fatica a collegare l'aspetto cosmico extraterrestre con Gesù il mondo divino eccetera cosa spiegheresti tu alle persone che trovano questo quasi inaccettabile cioè che gli extraterrestri che cosa hanno a che fare con Cristo io vorrei capire prima perché è inaccettabile per loro poi posso risponderti perché è inaccettabile perché magari per l'educazione che hanno ricevuto a livello spirituale cioè religioso gli extraterrestri fanno parte della scienza gli angeli Cristo fanno parte della religione quindi trovano i due mondi separati separati e allora io posso rispondere a queste persone che è stato dimostrato scientificamente che la Chiesa quando ha fatto delle scelte spirituali nella storia si è quasi sempre sbagliato la Chiesa cattolica ha azzeccato solo una cosa riconoscere Cristo come figlio di Dio e e porre in essere i sacramenti tutti veri tranne la confessione che è un'invenzione umana ma ne riparleremo ma il resto battesimo comunione cresima sono per quindi siccome è sbagliato nella storia si sta sbagliando anche questa volta nel considerare gli angeli che vivono in un mondo astratto e gli extraterrestri che vivono in un mondo materiale aprire la mente e pensare che il regno di Dio non è solo questo pianetino insignificante pieno di guerra ma è tutto l'universo grandi santi come Padre Pio oltre che pensatori quando un fedele disse ma esistono gli UFO perché a quei tempi nel 68 c'erano grandi ondate no? 64 65 dice Padre Pio ma esistono gli extraterrestri ma certo come esistono è Dio che ha creato il mondo solo in questo piccolo pianetino la magnificenza di Dio è grande e ci sono altri nostri fratelli magari più buoni di noi e quindi se l'ha detto Padre Pio un santo ortodosso spiego questo uscite dall'ignoranza ricordatevi Galileo che era pazzo Giordano Bruno che fu bruciato vivo quindi non ripetiamo lo stesso errore accettiamo che il regno di Dio è tutto l'universo e che esistono civiltà create da Dio miliardi di anni prima di noi e che sono quei famosi angeli della Bibbia che noi pensavamo fossero esseri astratti questo rispondo ti faccio un'ultima domanda Giorgio su un evento anzi due domande su eventi che sono accaduti di recente che a parer mio si legano a loro ci sono state anche tra l'altro qui in zona di Torino delle lacrimazioni di una statua di Gesù e questa qui di Torino è un segno anche per noi poi c'è stata una lacrimazione di sangue nella zona di Roma e poi c'è stato un fulmine che di nuovo ha colpito la statua di Cristo a Rio de Janeiro quindi un altro segno un po' parafrasando la frase ma non l'ha distrutto però però perfrasando la frase biblica tornerò mi manifesterò come una folga come un lampo a ciel sereno non lo so se il cielo era tanto sereno col giorno a Rio de Janeiro però il lampo c'è stato il lampo c'è stato si si è un segno assolutamente è un altro segno del cielo certo va bene grazie Giorgio grazie a voi grazie a voi spero che i temi che abbiamo toccato vi siano risultati interessanti e vi aspettiamo per un altro incontro e per un'altra intervista a Giorgio Bon Giovanni grazie a voi grazie a voi e grazie al pubblico qui presente grazie a voi